A cavolo! Per dormire nel nostro territorio devi pagarci, capito vecchio? Ehi, lasciatelo stare! E tu che vuoi? Ehi, ci stavamo divertendo! Ah, io e la mia boccaccia! Ehi, Seiya, fratello! Come butta? Alla grande! Non sei più un bambino, eh? Quando ti unirai alla banda? Una banda? Ma voi non siete una banda! Siete solo degli zucconi che molestano dei poveri senza tetto! Dai, non guardarmi così! Sai che ho ragione! Ma guarda chi abbiamo qui! Ehi, parlavi male della mia banda! Hai coraggio, Seiya! Molto coraggio! Poco, cervello! Dategli una ripassata! Ci vediamo, banda di perdenti! Andiamo, stavo scherzando! Sono spiritoso! Sì, come no! Idiota! Riceverai più botte che visite al video! Ma non ha un soldo! Eh? E questo? Questo cosa dovrebbe essere? Ridammelo! Avanti! Vai in giro con roba tanto infantile! Dove essere qualcosa di speciale per te! Detto ridatemelo! Ragazzi, che cosa sta succedendo? Lui sta facendo tutto questo! Me lo dovete ridare! Ora! Ma come? Ma come ha fatto? È un mostro! No! No! Correte! Aiutatevi! Scappiamo! Sei un mostro! Che cos'è? Sono impazzito! O forse ho battuto la testa! Forse entrambe le cose! Che cos'è? Qui cos'è? Che cos'è? Che cos'è?